dai dai che ci viene addosso qua qua ci investono via 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 buttalo giù buttalo giù che fa da invito buttalo giù che fa da invito e si è arrivato vai qua qua la o va qua la adesso qua non capiscono più un cazzo è la moto che va e basta loro non sanno più dove cazzo fanno cosa dicono giù là sotto che cazzo stai facendo ma magari il davanti sposti quando il davanti sul fermo non nei sassi perché se lo usi sul davanti nei sassi ti va via rifare prego senza saltare addosso a camera per favore si lui è diventato pericoloso quest'ora vedi vedi appunto è diventato pericoloso cazzo va bene io mi metto di qua intanto va che non si sa mai dai su diamo 28 sono incozzati dentro tre volte basta cos'è l'antinio o snam? 1 numero 2 al me schiccia dei buon cazzo al me schiccia dei buon questi io mica sono diventati pericolosi figaro è meglio stare lontani figaro è meglio mi sono messo di qui no mi sono messo di là no rinuncio lo chiameremo rinuncio ma devi farlo su trompe ma stando dentro nel canale senza uscire senza uscire dal canale va che ci viene addosso te non ascoltare che sei troppo piccolo Luigi gli ho detto al selvatico te non ascoltare che sei troppo piccolo per fare queste cose prendilo 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 te che a me mi scappa da ridere prendilo no gli ho detto a lui di non ascoltare che è troppo piccolo per fare queste cose cosa è che sto facendo? sta attento stanno cercando di tirar via il trompo stanno cercando di toglierlo e allora a quanto pare dai dai bella lì non avevo dubbi colpa vostra tocca 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 io ho toccato ma figaro ho toccato troppo adesso mi lascio sai cosa? quel gradone qua ma l'ho buttato su davanti ma poi vieni a su anche un po' più a piano non serve la quarta non va bene la quarta non va bene no la sesta ma dove l'hai spostato? lascialo stare lascialo stare ma non vedo ma dove è? no la sesta ma si chiama? si chiama mica uomo ragno per niente eh! io spero che la sua della statura non arrivi al cuore perchè è fuori a pesa si chiama? no 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 bravo avevamo dubbi cazzo l'ha rimesso al suo posto, va che bravo io direi di mettere dentro un sassetto lì dai dai